In Val Furva nuova chiusura per la strada provinciale 29 che collega Sant'Antonio a Santa Caterina. Il provvedimento è stato preso dal settore di abilità di Palazzo Muzio, considerato il piano di emergenza della frana del Ruinon. Ieri sera alle 23 la sala operativa della protezione civile regionale aveva comunicato il passaggio allo scenario D, quindi di criticità elevata. Si è quindi proceduto con la chiusura della provinciale. I semafori posizionati nel tratto di strada vicino alla frana sono diventati rossi. Sono state anche collocate le transenne sulla carreggiata. Il addivito di transito riguarda sia i veicoli sia i pedoni. Estesa l'ondata di maltempo che ha raggiunto la provincia di Sondio con temporali intensi e vento forte. Codice rosso dalle 18 di oggi alle 14 di domani, sabato 3 ottobre in Val Chiavenna, mentre nel resto della provincia il codice arancione.